Fate rumore, fate rumore, tre volte ho parlato in inglese e non in francese, chi sono gli amici? C'è una lega applicata che è immediatamente condannato, c'è l'Eliseo, questo è l'incontro avvenuto a giugno, quindi due mesi fa all'Eliseo tra il Presidente Bondo e il Presidente Macron ha condannato, ma qui in Francia ci si chiede, dobbiamo davvero continuare ad appoggiare personaggi come Presidente del Ramona e questa è la politica quando si sta sbretolando la Fansa Fiche, ma dietro questo sbretolamento c'è evidentemente una minaccia fortissima per tutto l'Occidente e per Ciara e l'Europa e anche un chiedersi che cos'è stata la politica dell'Occidente in Africa e in Europa. Allora grazie, grazie Giovanna per questo quadro davvero... Lucio... Quello che sta succedendo naturalmente sono cose che noi continueremo a seguire, prima di tornare alla De Natale, mi fate vedere qualche altra prima parte?